I sigilli erano arrivati due settimane fa con tanto di sgombero dei suoi familiari perché, questa l'accusa, l'alloggio popolare di Piazza Bachelet era stato occupato in maniera abusiva 15 anni prima e invece il Tribunale del Riesame di Brindisi ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati di Giancarlo Cavobianco presunto boss della SCU attualmente detenuto nel carcere di Lecce disponendo il sequestro dell'immobile IACP sulla base, immaginiamo, di quanto già svelato da Telerama ovvero che l'appartamento fu assegnato nel 1991 allo stesso imprenditore dal comune di Francavilla Fontana non è una supposizione ma un fatto attestato da una delibera di giunta preseduta all'epoca dal sindaco Giuseppe Attanasi che assegnò in maniera inequivocabile l'appartamento IACP di via Calamandrei Scala C interno 6 al signor Giancarlo Cavobianco che ne aveva fatto richiesta richiesta datata 2 ottobre 1989 fatta dallo stesso zio Carlone sulla base di una normativa regionale la pratica fu inviata dal comune di Francavilla alla commissione provinciale di assegnazione e alloggi di Brindisi che quindi elevò contestazioni all'allora occupante dell'alloggio che in virtù di una qualche non precisata violazione risultò poi decaduto del diritto all'alloggio un provvedimento arrivato prima dalla commissione poi per l'appunto recepito dall'ente comune e così dato che il signor Capobianco ha i requisiti per essere assegnatario dell'alloggio questo si legge nel documento la giunta deliberò in tal senso per cercare di far luce sulla vicenda avevamo quindi contattato l'istituto case popolari di Brindisi chiedendo di fornire l'eventuale documentazione che attesterebbe o meno l'assegnazione dell'appartamento a Capobianco o insomma a chiunque altro ma dopo essere stati sballottati da un interno all'altro in quello che forse maliziosamente ci sembrò una sorta di scarica barile tra uffici fumo più o meno gentilmente liquidati da uno dei dirigenti che nel 1991 si è pronto, pronto è una delitura del comune allora per fortesia voglio dialogare col comune si ma il comune il comune mi ha io ho la carta del comune ho il senso di aver risposto anche a questa domanda ma ora le sto chiedendo